Beh, lavorare con Marco allora inizialmente è semplice perché ti dà molta libertà. Libertà di proposte, libertà di azione. E lui è un personaggio sorprendente, lo definirei così, cioè come definizione sì, sorprendente. Sorprendente per come narra, per come fa ballare le parole, per come crea testo da niente, drammaturgie. E questo. Ogni impulso che arriva dall'esterno lui lo coglie. Anche il mio personaggio, no? È sempre dietro di lui, tre passi. E quindi provo a stare con lui. Io faccio Telemaco ed è il mio personaggio preferito perché sono assolutamente affezionato al personaggio. Mi ci ritrovo perché c'è un forte attaccamento alle radici. Poi dallo spettacolo sembra che lui si difenda, no? Dietro a questo padre, no? Tre passi indietro sempre, invece no. C'è una profonda stima, cioè quello che vuole raccontare il personaggio è una profonda stima, un rispetto e quel grande amore puro che c'è nel rapporto padre-figlio, no? Io ho conosciuto Gabriele Vacis, ho già fatto uno spettacolo con lui. Poi mi ha fatto conoscere Marco a Rubiera. Ho conosciuto Marco e si si è astretti la mano, si siamo guardati e probabilmente lui ha visto qualcosa lì. E le cose che faccio prima di andare in scena? Ce n'è una che dico sempre una frase dello spettacolo alfonico mentre mi mette il microfono. Ismaro non è famosa solo per il vino ma anche per la strage. Questo gli dico. Lo so perché, però è nata così. Lui mi è seconda sempre. Eh, sul palcoscenico la prima è stata incredibile, c'è un'emozione pazzesca. Mi tremava le gambe, è stato bellissimo. Ho iniziato a fare teatro che avevo dieci anni con una mia maestra storica del mio paese. Io vengo da un paesino di Reggio Emilia, si chiama Felina. Mi ricorderò sempre il primo giorno, com'è stato, cioè. Il pubblico del piccolo lo sento molto popolare. Vivo, il più delle volte. Eterogeneo, diverso. Ragazzini, anziani, cioè, bellissimo. Eh, mi aspettavo dal piccolo, cioè, il piccolo. Come avere un mito, no? Dice il piccolo, ci vanno, insomma, istituzione, cioè il piccolo. Io sono mio, non uso mai lenti a contatto, occhiali. Non vedo mai il pubblico. Non l'ho mai provato con. E consiglio di vederlo perché non è uno spettacolo claustrofobico, che si ferma nel teatro, no? Ti prende e ti porta a fare un viaggio.